cari amici buonasera anche durante questo ponte non mi andava di passarlo non insieme a voi volevo passarlo tutti assieme e ho preso uno dei miei temi dei miei film preferiti che è omen il presagio è dichiarato un film horror ma secondo me ha poco di horror non c'è tanto splatter nonostante il periodo io trovo che questo film omen sia l'anello di congiunzione che c'è fra rosemary baby che abbiamo già analizzato e l'esorcista dall'altra parte che abbiamo fatto insieme anche una bellissima analisi quindi questo possiamo dire che lo spartiacque questo film perché lo trovo importante intanto vi saluto tutti grazie per il vostro affetto grazie per essere già numerosi perché lo ritrovo importante perché a me ha insegnato tanto questo film è un film di gregory pack che io amo tantissimo la sua recitrazione qui è veramente bella c'è un bel crescendo e poi non non ci sono personaggi né positivi né negativi ci sono personaggi gregory pack non è un personaggio positivo è un personaggio che quasi macchiavellico figlio dei suoi tempi fa tutto per amore ma sbaglia la madre e la moglie è l'unica vittima che è l'unica vittima del di questo sistema e scopriamo insieme quanto ci può insegnare un film del genere all'epoca quando uscì ebbe molto successo perché si riuscì a trovare un piccolo spazio rispetto ai malva rosemary baby che ormai in quel periodo già spopolava era diventato già un cult qualcosa di successo e questo film viene prima dell'esorcista e ci sono alcune ciao marie ciao a tutti ciao fabrizia ciao allora partiamo direttamente già con le immagini ci tengo a precisare che queste sono sempre mie illazioni sono sono dei miei studi con se volete condividerli mi fa piacere ma sappiate che che questi ecco ecco partiamo già da questo questo tipo il film inizia già così perdonate le immagini ma sono state prese dal televisore partiamo già da questo dall'inizio roma sei giugno sei e sono le sei di mattina e noi troviamo già direttamente per chi non avesse visto il film cercherò di fare un piccolo riepilogo questo film inizia con questo personaggio interpretato da gregory peck che si chiama intanto se mi sentite bene e praticamente troveremo degli spunti interessanti perché potremmo scoprire attraverso questo film delle cose che servono molto a noi per il nostro percorso che stiamo facendo assieme si chiama robert thorn ed è un un uomo politico di successo che avrà una brillante carriera ora questo film ha un'interpretazione molto particolare ne parleremo alla fine perché c'è qualcosa che questo film ha che non riusciamo a trovare in nessun film è un film che ha una specie di trama segreta per questo mi affascina è un film misterioso al di là della trama al di là di interpretazione al di là del del libro che è stato tratto diciamo da cui esce fuori omen omen significa nemo al contrario nessuno lui è omen e si chiama il presagio ma in realtà io ho scoperto una trama segreta una soundtrack come si diceva nella musica no del soundtrack no ha una trama segreta che non è esoterica non c'è abbiamo tutte delle simbologie esoteriche simbologie interessanti però questo film una volta che 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 viene visto praticamente ha qualcosa di strano e ve lo dirò alla fine di quest'analisi è un po lunga perché il film dura tanto abbiamo questo gregory pack un uomo in carriera che inizia già in macchina si trova a roma come vedete nel video e c'è il giugno 6 delle ore 6 di mattina quindi il 6 giugno 6 6 6 sua moglie ha avuto una notizia lui si trova a roma sua moglie sta in america o a roma non mi ricordo se vivono tutti a roma oppure lui sta in america e si trova lì per un motivo comunque una questione politica si precipita direttamente in un ospedale dei cappuccini che si trova a roma e dentro di sé pensa e dice mio figlio è morto mio figlio è morto mio figlio è morto mia moglie non è riuscita appena nato era vivo respirava tutto ad un tratto non respirava più mio figlio è morto e si reca in questo ospedale che non è ben definito non si capisce se un ospedale per bambini che cose è qualcosa protetto dai preti e noi analizziamo già scusate e sentirete sempre il solito rumore non vi preoccupate se sentite il rumore state tranquilli e questo ha diciamo questo bug che ho io nel su stream yard purtroppo devo risolverlo ma non so come fare iniziamo subito che lui si precipita va verso questo convento perché hanno qualcosa da dire e incontra questo prete che suo padre stiletto che lo convoca già vediamo subito le simbologie attenzione perché questo film è particolare il regista è molto bravo ma utilizza sempre uno stesso schema ci sono dieci inquadrature che si ripercorrono sempre cambiano i soggetti questa è un'inquadratura vista dall'alto si chiama planche quella dal basso verso l'alto e contro planche dovrebbe essere così questa inquadrature è come la vediamo da una balconata in alto c'è una balconata una specie di ballatoio una cosa del genere all'interno di questo istituto e noi stiamo osservando stiamo spiando queste due persone fate caso fate caso a come lui posizioni i piedi intanto vediamo pavimento a scacchiera pavimento a scacchiera già abbiamo un'interpretazione già del bene del male diciamo il pavimento solomonico che poi è stato preso dai massoni e dalla massoneria intanto vediamo come lui posiziona i piedi ci tengo a precisare una cosa gran parte di queste cose potrebbero inizialmente sembrare degli errori perché ogni inquadratura ci sono dei cambi del soggetto cambia posizione questo qui in il cinema si chiamano errori perché mettiamoci con film datato in analogico era difficile cambiare pellicola come si fa adesso quando c'erano degli errori c'è una persona nel cinema che si chiama segretaria di edizione la segretaria di edizione segretario è quella persona che si ogni inquadratura si segna tutti i particolari il bicchiere mezzo vuoto tutte le cose particolari nella prossima inquadratura devono rispecchiare costantemente le stesse cose per questo alcune volte vediamo il bicchiere in un'inquadratura che è pieno dall'altra inquadratura è vuoto e quello è un errore ora la cosa strana che tante simbologie possono sembrare errori ma quando sono così vicine quando sono così vicine mi lasciano pensare che errori non sono attenzione allora vi stavo dicendo guardate un po gregory peck come messo guardate guardate piedi la posizione piedi stanno tutti sul bianco sui quadrati bianchi lui qui è sconfortato padre stiletto lo conforta e gli dice gli dice non dica niente a sua moglie c'è la possibilità di avere un bambino suo figlio è morto perché non prende questo bambino sano e lo porta con sé non dica niente a sua moglie lo sostituisce e dice che non è mai morto suo figlio questo è suo reale figlio non faccia soffrire sua moglie allora lui è messo lì in una situazione disperata perché in questo momento questa persona ha un piede tutte e due nel bianco nella scena successiva tutto cambia non so se ci fate caso i piedi non sono più nel bianco addirittura sembra che la la sedia sia stata spostata o si sia spostato lui i piedi sono tutti e due nel nero neanche uno nero uno bianco sono tutte e due nel bianco ora l'inquadratura non lo fa vedere però diciamo il piede posizionato tutte e due nella scena quindi in quelli di prima dall'alto dalla posizione vista dall'alto i piedi erano tutte e due nelle nei quadrati bianchi e invece nella posizione di padre stiletto che il tentatore sono visti tutte e due nel nero quindi il Gregory Peck in questo caso Thorne sta tentando e sta decidendo di prendere la strada quella nera cioè quella di prendere e adottare questo bambino senza dire alla moglie che suo figlio è morto ora un altro accorgimento la simbologia di questo film è semplice è più interessante la sottotrama che c'è ogni volta ogni personaggio assume una posizione a seconda del di quello che c'ha dietro quindi quando vedete questo film dovete fare caso a dove si posiziona l'attore ogni volta l'attore e questo qua in questo caso si sta posizionando accanto a San Giuseppe quella figura che vedete dietro l'immagine che vedete dietro è San Giuseppe o dovrebbe essere una madonnina ma penso che sia San Giuseppe non si vede molto espocato se qualora fosse San Giuseppe sarebbe interessante perché San Giuseppe non ha avuto un figlio e quindi in teoria non ha avuto un figlio diciamo di Cristo quindi vediamo il corrispettivo di Gregory Peck che è disperato per questa situazione ecco questa è un'inquadratura interessante qui sono nella vetrata c'è una vetrina dove fanno vedere il bambino ora questa immagine la rivedrete spesso questa immagine di lui che guarda attraverso la finestra qualcosa che sta fuori è costante è costante anche quella che guarda dall'alto cambia il soggetto ma le inquadrature sono sempre le stesse perché l'obiettivo è un altro allora lui dalla vetrina insieme a padre stiletto sta guardando questo bambino con questa suora tra l'altro sia la suora che padre stiletto sono due corrotti fanno finta di essere sacerdoti preti e quant'altro lui per diciamo per per coinvolgerlo e lui in questo momento sta decidendo di prendere questo bambino e come vedete questa è la vetrina diciamo come la nursery qui dietro dove ci sono tanti bambini poi questa nursery verrà negata cioè nel tempo quando lui ritornerà lì disegnano che non c'è mai stato la nursery non c'è mai stato la nursery e quindi praticamente guardate cosa c'è dietro gregory pack fate caso questo film è interessante perché noterete spesso che c'è dietro questi bambini questi santi ci sono sempre dietro le spalle e c'è anche un altro particolare quando sceglierà di portare a suo figlio e questo figlio questo presunto non si sa ovviamente questo bambino venuto dal nulla che viene viene preso viene adottato così in maniera clandestina da thorn per portare la sua moglie e dire che questo è il loro figlio quindi lui mente se ci fate caso per tutto il tempo guardate la cravatta che ha thorn la cravatta che ha gregory pack se ci fate caso è da serpente è una cravatta stile serpente c'è dei rombi è un colore un po' metallico e quindi richiama molto il serpente perché lui in questo momento è purtroppo si è corrotto cioè nel senso che ha mentito alla moglie della morte del figlio e si è portato questo bambino però ripeto e in questo momento è da giustificare perché siamo praticamente in una situazione molto particolare da quel momento in poi la carriera appena prende il bambino la carriera di gregory pack praticamente va gonfie vele lui ritrova il suo miglior amico che diventa presidente degli stati uniti il suo miglior amico e sono cresciuti assieme e casualmente lui diventa ambasciatore ora guardate un po' la simbologia particolare che c'è nella sedia questa è una simbologia molto strana guardate e questo richiama moltissimo anche il film rose mare baby dove c'erano questo tipo di simbologie sono due draghi che si guardano vedete ora le simbologie dei draghi o delle aquile che guardano di lato guardano frontali sono molto diverse questi sono come se fossero due draghi vedete in alto sulla sedia ci sono queste che custodiscono qualcosa in alto questo è molto interessante ed è appaiono queste simbologie nel momento in cui gregory peck dice a sua moglie facciamo le valigie e andiamo in inghilterra perché sono sta sono stato promosso come ambasciatore ambasciatore in inghilterra quindi lui si trovava a roma e si stabilisce in questo impero in questa casa meravigliosa in inghilterra diventa ambasciatore ecco se ci fate caso questa è la stessa identica scena della vetrina cioè quindi lui il bambino ma è suo che sta crescendo come vedete già avrà già tre anni così il bambino già cresciuto lui nella vetrina è identico e casualmente in questo momento non c'è più la suora ma dagli stessi vestiti c'è la tata che tiene in mano il bambino è la stessa identica posizione e lui in questo caso cosa fa chiude il finestrone vedete andate a vedere l'immagine che c'è di lui nella vetrina e con la sua ora e con padre stiletto ed è la stessa identica lui chiude la finestra e sta un po con sua moglie ora qui qui c'è una scena interessante praticamente una scena un po strana c'è una scena in cui loro camminano sul su questo parco evidentemente all'interno di questa casa c'è questo fiume questo parco un posto bellissimo praticamente mentre camminano dopo un po non si accorgono più che non c'è più damien damien viene chiamato così il bambino danno il nome di damien che praticamente è l'anticristo ma loro non lo sanno ma damien ha diverse damiano in greco ha diverse etimologie una di queste è dominatore quindi damien significa già dominatore ok colui che domina allora che succede succede una cosa strana loro camminano nel parco tutt'assieme il bambino scompare non lo trovano più e allora si preoccupano tutto ad un tanto poi lo trovano scena una scena che sembra apparentemente così stupida a parte che nessun genitore nessun familiare lascia il bambino indietro e cammina perché il bambino sta sempre avanti una madre un padre stanno sempre a guardarlo cioè impossibile che si fanno una chilometrata e si accorgono dopo del bambino non esiste non è da famiglia perché accade in realtà questa è la trasposizione evangelica di quando san giuseppe e maria ritornano a casa e non trovano più loro figlio è la trasposizione perfetta perché mentre lo sono in carrozza non si accorgono durante il passaggio il tragitto da dal tempio di genusalemme fino ad arrivare a casa non si accorgono più del loro figlio e allora cosa fanno vanno in giro dopo tre giorni che lo cercano lo cercano lo ritrovano al tempio cioè dove avevano lasciato la stessa cosa accade così è una trasposizione evangelica del damian che si perde non lo trovano tutto ad un tratto dove 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 è e guardate qua c'è un particolare guardate il cane lo vedete il cane finto il girello finto tutto ad un tratto vedono il cane rivolto in questa direzione loro intanto pensano al lago penso che si sia buttato nell'agolo il bambino si è soffocato invece cosa accade accade che questo cane è rivolto casualmente dove damian si farà trovare cioè loro si girano il cane l'indicazione di dove guardano loro praticamente il cane è come se avesse presagito il cane l'indicazione di dove stava realmente il bambino loro lo ritrovano damian damian dove eri dove eri lo ritrovano lo vanno a riprendere e guardate il cane è girato dall'altra parte opposta può essere un errore non si sa guardate il cane prima era rivolto verso damian appena damian viene trovato il cane sta dalla parte della riva del fiume e questo è un particolare interessante perché è come se damian avesse già indicato i suoi poteri cioè il cane è sempre stato in direzione della riva del fiume ma i genitori hanno avuto l'indicazione da parte del cane infatti guardavano da quella parte potrebbe essere un errore dovuto alla segretaria di edizione l'hanno lasciato non si sa damian cresce e guardate qua questa è una scena una fotografia perché loro vanno in giro in inghilterra vanno a girare si divertono perché hanno il loro figlio e damian assume questa posizione guardate le due dita i capelli in su perché c'è vento e qui damian comincia ad avere una posizione molto particolare se ci fate caso guardate tiene le altre due mani così poi indica l'indice al medio e il coso quindi è molto da lì damian sta incominciando a diventare qualcosa di quello qui c'è una scena fatidica del film decidono in inghilterra di fare il compleanno del bambino domino fa cinque anni lo festeggiano e appare un cane ora chi è che cos'è questo cane questo cane si vedrà costantemente ne abbiamo già parlato il cane nero viene indicato con un rottweiler sono tutti rottweiler il cane nero in realtà ha diverse interpretazioni a seconda della cultura potete trovare il cerbero potete trovare qualsiasi cosa in inghilterra è un cane che presagisce che qualcuno morirà ecco nella cultura diciamo o è il guardiano degli inferi dell'ade a seconda però ha sempre questa funzione nella diciamo nelle tradizioni cattoliche questo è una specie di psicopompo del demonio ecco vediamolo così il cane nero è colui che fa la guardia alle porte dell'inferno ma soprattutto uno psicopompo cioè lui ha oltre a fare la guardia è uno che indica e porta alla morte negli inferi chi è dannato infatti viene visto dalla tata e c'è quella scena madre che la tata decide di impiccarsi davanti a tutti dicendo damia ti voglio bene damia ti voglio bene apparentemente questa scena non ha una funzione logica lo avrà nel tempo e nei tutti i film riguardanti queste forze oscure c'è sempre la presenza del cane nero non è solamente una figura allegorica una figura come ho spiegato prima molto importante allora in quel momento si lancia e si impicca la tata davanti a tutti durante una festa cioè i genitori hanno fatto una festa enorme per damia attenzione ci sono un sacco di sim e questa è la scena la scena di cui la quale si impicca praticamente la la tata la bambinaia di damia dice dichiarando che lo vuole bene fa questo sacrificio per lui c'è lui lei si sacrifica in onore di damia fate caso un po alle simbologie che ci sono laterali a questa finestra che ci sono qui questa è una finestra di servizio ecco guardate qua c'è un bel ariete vedete c'è anche qui ora praticamente che succede succede che il particolare cos'è solitamente queste cornici hanno solamente delle figure di piante di cose invece questa alla fine all'estremità troviamo una riete e casualmente lo troviamo accante accanto all'uccisione diciamola al suicidio della tata del sacrificio della tata e questo è interessante molto interessante in questo parco giochi in questo parco dove si stavano divertendo la scena si ferma diventa tutto macabro damia rimane traumatizzato gregory peck va direttamente a cercare di prendere questo ormai cadavere la festa si sfascia praticamente tutti decidono di andare a casa e costantemente vediamo clown ci sono un sacco di clown tra l'altro un clown nero come vedete lacrimante attenzione a questa immagine perché la rivedremo in altre circostanze quando le cose cominciano a diventare strane dopo questa cosa qui lui nel suo ufficio ha diciamo ha la visita di padre Brennan Brennan è un padre Brennan è praticamente un praticamente si lasciate listare i troll e praticamente che succede padre Brennan che cosa fa è una figura strana perché è un prete ma lui incomincia a dire io c'ero quando è nato suo figlio lei deve salvare sua moglie praticamente in ufficio si presenta quest'uomo si presenta quest'uomo e lui dice chi è? dice al sacerdote ma scusate ma che cosa vuoi? quello è mio figlio lui nega totalmente che gregory peck che dice no io so che cosa ha fatto lei lei ha sostituito suo figlio morto lei deve fare in modo praticamente questo qua in realtà è un prete che faceva parte delle forze oscure e si vuole redimere perché ha capito di aver sbagliato si è pentito allora cerca in tutti i modi questa è una figura importante perché cercherà di convincerlo andiamo con un'altra figura importante questo qua è il fotografo che si chiama Kate Jennings fotografo Kate Jennings fotografo guardate dietro che cosa c'è dietro c'è la bandiera americana ma non si riesce a vedere la testa sembrano quasi le ali formano qualcosa di particolare ho provato a inquadrarla in maniera profonda ma non sono riuscito a vedere nulla non si vede bene la testa però è fatta quasi apposta forse in HD si riuscirebbe a vedere però è particolare che automaticamente dietro questo è il fotografo che scoprirà dei fenomeni paranormali all'interno del film ecco perché questo film è interessante perché questo film è il primo film dove viene accostato oltre alle forze demoniache e tutto il resto iniziamo ad avere anche delle figure paranormali non stiamo parlando di poltergeist stiamo parlando di delle sette oscure e questo grazie all'ausilio di questo fotografo professionista riesce a sviluppare delle foto dove riesce a individuare automaticamente chi sono i coloro predestinati alla morte perché hanno delle specie di ombre conficcate e lui si accorge di questa specie di disegno che c'è dietro ogni persona cioè facendo foto sviluppandolo si accorge che queste persone sono ormai sono prossime alla morte ecco e qui arriva una delle figure madri questa figura madre è la Baylock la governante Baylock e anche la Tata diventerà governante questa è la figura più enigmatica del film lei si spaccia per una Tata la madre ha certi dubbi attenzione perché guardate che interessante questo film perché ci aiuta ci aiuta a capire quanto sono intelligenti queste persone lei riesce a manipolare un ambasciatore che di natura è uno che la sa lunga e la moglie che non è una stupida la moglie dice ma ma lei chi l'ha portata qui e lei fa no l'agenzia ma noi non abbiamo contattato l'agenzia andrò a verificare e lei fa no le do le mie referenze che sono più importanti dell'agenzia stessa e lei si calma da questo momento questa donna prende possesso della casa lo scopo è quella di fare da custodia Damien lei è una della setta anzi lei è forse una maggiore esponente della setta stessa mentre parla sempre dietro lateralmente ci sono queste figure questa non sono riuscito a indicarla bene non riesco a individuarla bene sembra qualcosa dei tarocchi ma non lo è è un uomo piegato che legge un rituale e sta a indicare verso questa persona non sono io dovrei avere l'immagine in HD per riuscire a capire che anche che c'è scritto però non sono riuscito a ottenerle prima di entrare prima di entrare prima di entrare in camera noi notiamo tutti i vari clown ecco la cosa incredibile è che questo film è ossessionato dai clown legano i clown alle forze oscure di Damien io questa allegoria io sinceramente non la capisco perché nel film la scelta registica del segretario forse il direttore della fotografia quello che è praticamente ci sono ogni volta che c'è una scena con Damien ci sono o immagini di clown o ci sono i clown stessi sempre oscuri sempre un po' strani lei entra e dice si presenta a Damien e gli dice da oggi tu sarai protetto e finalmente vediamo Damien sorridere con alle spalle il fuoco ok già quindi già si presagisce più didascalico di così che questo sarà l'anticristo voglio dire un figlio che non si sarà da dove viene molto particolare incomincia ad avere delle cose strane e poi abbiamo il fuoco dietro ora questa è una scena particolare come vedete dietro le spalle sempre di Gregory che è peck vedete 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 troviamo un'altra strana simbologia guardate sempre duale sempre speculare però sempre rivolta due cavalli sembra che sono sempre rivolti verso nelle simbologie molto spesso quando trovate due aquile che guardano verso sono due aquile che devono proteggere un segreto un segreto ma in questa posizione devono mantenere un segreto anche da loro due sono loro due custodi così devono custodire un segreto dall'esterno dal mondo esoterico invece così sono tutte e due questa è sempre una simbologia duale che troviamo anche in quella della poltrona la poltrona che abbiamo visto prima questo è interessante e questa è un'immagine interessante perché lui incomincia a avere certi dubbi sul figlio e Thorne fa Robert dice a sua moglie ma non ti sembra strano che Damien non sia mai ammalato assolutamente non è mai malato non ha mai avuto le malattie le malattie classiche le classiche malattie che tutti i bambini hanno gli orecchioni la varicella niente Damien da 5 anni a questa parte non c'ha niente febbre si sa che i bambini alle volte sono un ricettacolo di malattie cioè si ammalano costantemente e invece lui mai e questa cosa lo stupisce la moglie fa vabbè sarà sano non ti preoccupare cerca in qualche modo di togliere qualche dubbio al marito e la cosa strana che poi il cane se lo ritrova la casa cioè diventa il guardiano della porta la tata che incomincia pian piano a diventare sempre più invasiva invadente decide lei per Damien c'è la scena la scena fatidica di quando Damien lo portano in chiesa lei si oppone e Damien diventa un pazzo oppure quando lei lo prova a portare Luna Park al parco degli animali allo zoo e gli animali scappano solo alla presenza di Damien lei mette questo cane che stava fuori dentro e dice si è affezionato moltissimo Damien perché toglie lui non lo vuole questo cane allora lei si è promessa di toglierlo ecco non lo toglierà mai lei decide ormai a casa loro questo è un vero e proprio ammutilamento in casa Thor lui ritorna da lavoro la madre non ne può più perché lui ecco totalmente ormai Damien diventa disturbante costantemente e allora c'è un particolare Damien mentre giocava suo padre arriva dice che è successo la madre è asaurita pensano che abbia dei problemi psicotici e il bambino si va a mettere casualmente dietro sotto a un quadro di clown guardate quindi è una cosa molto particolare su questo quindi come vedete questo clown poi tra l'altro ce n'è uno bianco sopra che tiene un clown a parte e qui abbiamo in presenza un clown quasi zombie cioè quasi triste non è più quasi un pierrot ma è qualcosa di particolare poi accanto abbiamo a sinistra abbiamo credo una statua del pan sempre qualcosa di di satilo no e abbiamo il bambino sotto vedete lui si va a posizionare proprio lì e guarda verso di noi ha un'immagine inquietante guardate il bambino ha delle espressioni allora la cosa interessante la cosa interessante che cos'è che lo chiama il fotografo e gli spiega che tutte le fotografie che ha fatto rispecchiano queste specie di filamenti di fili guardate sono questi fili che collegano non si sa che cosa ma presagiscono la morte infatti il sacerdote morirà conficcato lui continuamente questo sacerdote questo padre Brennard costantemente gli farà gli darà dei versetti dell'apocalisse gli dirà che sta per arrivare nel mare in tempesta che poi viene interpretato con la politica nascerà su una nuova stella perché in effetti il 6-6 alle ore 6 si è verificato questa specie di stella diversa lui sta dicendo che ecco questa figura interessantissima del fotografo diventerà la spalla ma soprattutto diventerà quasi un investigatore perché ha una cume incredibile per le indagini nel momento in cui questa gente tradisce il maligno vengono ammazzati infatti lui era un convertito si è pentito ha cercato di mettere in allerta in allerta praticamente il Robert ma non ce l'ha fatta e muore prima altra figura enigmatica io non sono riuscito a trovare nel libro anche qualcosa di particolare questa figura dello psicologo perché la moglie comincia a soffrire perché incomincia lo psicologo spiega a spiega al marito che lei e la moglie sta incominciando a sviluppare delle paranoie nei riguardi del figlio è convinta lei è convinta che non è suo figlio ok è convinta che non è suo figlio ma dice lui in quel momento dice cavolo allora mia moglie ci ha visto lungo e incomincia a non volere più questo figlio lei dichiara in questo momento prima di andare dallo psicologo dichiara di essere incinta nuovamente a Robert gli dice sono incinta da quel momento che lei è incinta lei incomincia a detestare Damien e perfino la tata questo psicologo non ha mai capito se è una figura neutra una comparsa o fa parte di quella cerchia lì perché convince la moglie ad abortire perché sarebbe distruttivo per la psiche della madre perché è convinta che suo figlio non è suo ed è il figlio del demonio lui in quel caso siccome la verità la sa gli dice perché non fa abortire sua figlia e sua moglie e lui fa no perché l'ho promesso a qualcuno che sarebbe arrivato il punto che mi avrebbero fatto abortire qui c'è una scena interessante perché nel film si cerca di spiegare che ogni volta che c'è qualcosa di santo c'è il suo opposto e ogni volta che nasce il suo opposto c'è la sua parte diciamo contraria non è un caso che dopo tanti tentativi di questa coppia di fare figli non ce la fanno poi lui prende Damien e non a caso che dall'altra parte lei entra incinta no perché lei entra incinta per fare è lo speculum è l'opposto di Damien ogni volta che arriva qualcosa di malevolo interviene dall'altra parte qualcosa di positivo ogni volta che c'è qualcuno di positivo arriva l'anti quindi è normale che sia che lei sia entrata incinta che lei aspetti un bambino perché l'opposto infatti Damien e la setta lo sa e io non vorrei che questo psicologo era dalla parte di Damien allora senza me senza ma si comincia a tramare qualcosa ma le trame non sono mai queste cospirazioni non sono mai fra uomini fra il bambino e la setta che cercano di uccidere qualcuno avvengono come se fossero predestinati fateci caso durante il film prima di fare l'omicidio di cercare il tentato omicidio della madre che è incinta Damien comincia a girare con la bicicletta su se stesso e gira 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 in maniera vorticosa ed è sembra la scena di di Danny Damien Danny sembra un elo Stephen King penso che si sia ispirata a questa scena che Damien comincia a girare con la bicicletta e lei lo guarda come se loro già sapessero dove dovevano cosa dovevano fare sì è particolare anche quella ora guardate cosa c'è dietro il quadro della caposetta guardate cosa c'è dietro la tata che ormai è la caposetta si pensa che sia lei la vera madre di Damien ma in realtà nel libro è specificato che Damien è nato da uno sciacallo che sia stato partorito da uno sciacallo che abbia avuto un rapporto con un uomo praticamente sia stato partorito da uno sciacallo però non è mai specificato nel film questa cosa guardate qua cosa c'è dietro c'è una bicicletta e questo è sempre il presagio che c'è dietro nei quadri rispetto ai personaggi questo è Damien in bicicletta che continua nella sua stanza a girare in maniera forse nata e questa è la scena sembra la scena di di Shining di Danny che gira con la bicicletta è molto simile quella cosa un clown sull'antica bicicletta potrebbe essere comunque detto questo lui si scaraventa contro la madre perché la madre stava facendo dei lavori diciamo di giardinaggio e aveva bisogno di una scaletta allora prende questa scaletta per cercare di sistemare il giardinaggio nel frattempo aveva messo una brocca ecco la madre in quel momento mentre faceva il giardinaggio posiziona una brocca dei pesci diciamo una brocca con dell'acqua con dentro dei pesci e si mette su uno scalino nel frattempo con la bicicletta che cosa fa si schianta Danny volutamente si schianta con la scala dove sta la sua madre e casca la madre casca attenzione prima casca la boccia d'acqua si vede questa questa boccia di vetro che si spacca a terra e attenzione il fatto che ci siano dei pesci che cascano prima della madre quella rappresenta la vita i pesci è il simbolo di Cristo la bocca di pesci con il simbolo di Cristo potrebbe essere anche l'acquario ma il simbolo dei pesci che cade che si schianta prima della madre la madre incinta del suo opposto dell'anti diciamo opposto di quello che dovrebbe prendere il posto di Damien prima casca attenzione questa donna che è messa su una scala dove prima casca la brocca con i pesci che è il simbolo di Cristo e poi casca sopra lei quindi questo è un simbolo importantissimo ma non contento la madre casca in un certo modo fate il caso fateci caso questa è la stessa inquadratura della seconda fotografia che ho fatto vedere io vi ricordate quella inquadratura dall'alto che abbiamo chiamato Planchet che dove c'era il padre è sempre quella specie di balconata da dove stiamo spiando è la stessa identica inquadratura che abbiamo visto nella seconda immagine dove c'è Gregory Peck che cerca di confidarsi con padre Stiletto la stessa identica inquadratura dall'alto verso il basso ma con soggetti diversi e qui abbiamo Damien che guarda sua madre cadere non l'aiuta addirittura cerca di togliergli le mani cioè in quel momento mentre lei sta per scivolare fa in modo che lei caschi direttamente e quando casca la madre che fortunatamente non muore ma perde il bambino perde il bambino e ingessano gran parte del corpo attenzione che qui iniziamo già con la simbologia guardate il tappeto il tappeto sono tutti dei rombi da questo momento in poi voi appena Damien conferma il suo potere troverete noterete quadrati dappertutto la simbologia dei quadrati non è demoniaca assolutamente non è demoniaca è materica perché le dimensioni la linearità dei quadrati è l'opposto della parte spirituale che è il cerchio quindi non facciamo confusioni non incominciamo a dire che i quadrati sono delle sette sataniche no in questo film ci vogliono dire che il potere materico in questo momento è più potente rispetto al potere che per adesso possono avere i cerchi possono avere la parte spirituale tra l'altro le mani su e giù ma soprattutto formano un quattro i pesci sono quattro a sinistra abbiamo un cubo come vedete un quattro cubico vedete quattro lati il tappeto è fatto in materia diagonale quadrata vedete e poi ci sono quattro pesci morti i quattro pesci morti li guarda sempre e lei ha la forma del quattro guardate assomiglia a un quattro guarda uno e due vedete e qui ci sono quattro pesci e lei morta a forma di quattro significa questo è un'attestazione che Damian in quel momento è purtroppo il principe del mondo lui in questo momento è il principe della materia delle cose visibili come c'è scritto nel Vangelo di Tommaso dove si dice che lui è principe delle cose e la pianta è se la pianta che avete visto è perché lei nel film cerca di toccare la pianta la pianta rappresenta l'attaccamento alla natura la natura di Dio il disegno di Dio quando la vedete lontana dal quattro dalla morte di lei significa che lei non potrà più raggiungerla ormai si è creata una dimensione quadrata ok una dimensione materica significa che lei non avrà più la possibilità perché lo vedete in che stato è di avvicinarsi alla natura la pianta è il corrispettivo di quello che lei cercava di ottenere prima di cadere l'attaccamento alla natura sono cinque pesci? sì vero aspetta controlliamo uno due tre quattro cinque sono cinque pesci vero strana questa cosa quindi questi cinque pesci cosa potrebbero essere? un cinque? un pentacostale? potrebbe essere il pentacostale? non lo so potrebbe essere il pentacolo ma dovremmo fare un disegno magari è rovesciato non lo so io avevo pensato quattro pesci potrebbero essere quattro pesci padre madre loro due Gregory Pecch e la madre Catherine Damian il figlio che stava dentro e la quinta potrebbe essere la governante? potrebbe essere così questo calcolo dei cinque pesci i riflessi formano delle croci eh sì 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 in effetti non vorrei che fosse però la luce che c'è per fare l'inquadratura perché vedete che è illuminata dall'alto c'è uno due tre magari se li uniamo questi pesci fanno qualcosa non credo che siano messi lì a caso forse fanno un quattro così non lo so ditemi voi e qui è importante questa scena perché Kate dice che nel cadavere del sacerdote morto ha trovato il 666 hanno tutti una specie di simbolo 666 una specie di tatuaggio suo figlio potrebbe averla non nel corpo potrebbe averla in testa e vanno a casa del sacerdote morto per indagare da quel momento vedono 47 croci tutte attorno praticamente tutte attorno alla casa il prete era una specie di pazzo che cercava di redimersi in tutti i modi ma non ce la faceva sapeva di morire la cosa strana è che Kate Jennings il fotografo mentre si faceva una foto lì dentro ha fatto una specie di selfie davanti allo specchio cosa fa? fa praticamente dichiare dice a Robert che lui anche lui purtroppo morirà anche lui è segnato quindi a tutti i costi lui si mette alla ricerca di capire di trovare una soluzione per cercare di non morire perché ha capito che ormai eh ha capito che è finita allora vanno a Roma vanno a Cerveteri prima vanno vanno in ospedale vanno in ospedale non riescono è tutto cambiato cinque anni fa c'è stato un incendio non c'è più nessuno loro rimangono scioccati e qui il padre Robert gli confessa a Kenneth che lui non ha non è suo figlio ma l'ha adottato non si sa da dove l'ha preso vanno a Roma i cappuccini è tutto cambiato però sono riusciti a capire che padre Stiletto è ancora vivo e vanno a Cerveteri in questo convento di eh Domenicani eh sì dovrebbero essere Domenicani mi ricordo di sì eh vanno praticamente in questo convento e ritrovano padre eh Stiletto che è l'unico supersite dall'incendio che si è stato cinque anni fa e ritroviamo come vedete ritroviamo a nella diciamo nella stanza di padre Stiletto ormai tutto bruciato e dannato troviamo una madonna bruciata forse i resti di quello che è rimasto perché è la stessa madonnina che trovavamo noi nell'abitazione dei cappuccini dove stava prima lui lui ormai non parla più è totalmente diciamo durante l'incendio è rimasto l'unico sopravvissuto appena l'incendio combacia perfettamente con la consegna della nascita di Damien e riesce a fare praticamente un disegno padre Spiletto con le ultime forze che ha e gli indica un cimitero etrusco in questo cimitero etrusco troveranno i resti di un bambino morto quindi suo figlio era vivo il figlio di di Gregory Peck non è stato un incidente non è che è morto così era l'hanno ucciso loro l'ha ucciso la setta per imporre questa sostituzione a a Gregory Peck e lui a questo punto capisce la verità che il bambino è stato sostituito lì c'è quello morto e quello è suo figlio dall'altra parte la tomba non c'è la figura della moglie c'è la figura di un cane il teschio lo scritto di un cane perché nel libro si dice che lui Damien è stato partorito da una sciacalla e e quindi che succede nel film invece si dice che è stato sostituito perché la madre non si sa chi è non si sa chi è la madre e fanno pensare alludere che la madre sia la governante questa cosa è un po' confusa non è mai stata spiegata loro vengono assaliti loro vengono assaliti da quattro cani quattro cani tutti rottweiler casualmente sempre il quattro il quattro è una cosa molto ricorrente in questo film perché sta a precisare la sta a precisare la materialicità che c'è una potente materialicità rispetto alla spiritualità perché nel libro allora il motivo perché non aveva un occhio e tutta questa parte non è più utilizzata è perché lo dice nel film chi si allontana c'è una specie di malocchio che fanno i preti a chi si allontana da Cristo chi si allontana da Cristo che possa bruciare che possa rinsecchire il braccio destro e l'occhio destro perde l'occhio destro e lui casualmente gli accade questo quindi tutte le persone sono quasi marchiate perché si sono convertite al male quindi è più peccaminoso un prete che conosce la via di Cristo che si allontana da Cristo e si avvicina a quella parte lì rispetto a un comune mortale nella campana 47 croci riguardano in 47 nomi di Dio lui cercava di proteggersi in qualche modo lui quando va via dal cimitero subito capisce l'antifona capisce che le cose si stanno mettendo male e che il male sta avvincendo chiama la moglie e dice scappa subito all'ospedale ti stanno venendo a prendere non ce la fa arriva la sacerdotessa la governante prende la moglie che stava in ospedale ancora in convalescenza e la butta purtroppo dal balcone e muore finalmente sta povera Cristo che mi ha fatto una pena per tutto il film perché non gliene succede una buona sta donna figlio morto ammazzato poi io lo sostituiscono col demonio la butta dal balcone il suo figliastro e nel frattempo cosa succede? succede che viene ammazzata direttamente cioè questa donna catering è propriamente un agnello sacrificato no i cani ne sono 4 non sono 5 almeno quelli si dai sono sempre 5 no sono 1 2 3 e 4 poi nel film si vedono che sono 4 perché 3 attaccano 3 attaccano Robert 3 attaccano Robert e 1 attacca Kate che riesce a scappare Kate riesce a scappare l'unica soluzione che gli rimane a loro è praticamente di andare a questo Bungendang Bungendang questo nome particolare è questo sacerdote che sta nella città di Mechido è una città che sta a sud di Gerusalemme sotterranea lui sta lì a fare degli studi e finalmente loro due decidono perché ormai si è capito che Damien è l'anticristo come ucciderlo l'unica soluzione glielo diede praticamente il padre Brennad gli disse deve andare da Bungendang si chiama così questo qua Bungendang ha un nome stranissimo praticamente questo tizio nel libro è più vecchio invece qui è un po' più giovane gli dice come posso aiutarla e fa guardi mi deve salvare perché gli racconta la storia gli dà degli stiletti gli dà degli stiletti gli devi pugnalare il primo al centro gli alti laterali a forma di croce davanti a un altare può uccidere questo bambino perché altrimenti siamo rovinati lui si convince ma non del tutto non ce la fa non ce la fa perché dice io non me la sento ad ammazzare un bambino non ce la faccio sarà il figlio d'anticristo ma io non ce la faccio io sti stiletti li butto li butta li prende kit e dice lo faccio io nel momento in cui lo fa lui kit si avvere il presagio cioè viene ammazzato decapitato da un vetro come vedete i quadrati la simbologia cambia totalmente diventa quando viene fatto il tentato omicidio della madre tutto diventa quadrato cioè il possesso totale della materia delle cose visibili e quindi come vedete dorme su una copertina quadrata vedete i disegni che ci sono di Damien vedete sono un leone che cerca di ammazzare una preda sempre cose abbastanza molto feroci il padre scopre dentro diciamo taglia delle ciocche di capelli di nascosto di notte e scopre che c'ha il 6-6 c'ha il marchio della bestia il bambino decide di prenderlo scappa da tutti l'ambasciata lo rincorre tutti a rincorre lui finalmente arriva davanti a un altare si convince prende lo stiletto e in quel momento il bambino fa papà no papà no lui lo fa lo stesso che Dio mi perdoni ma in quel momento in quel momento colpo di pistola della polizia e salva il bambino e lui muore diranno che lui è in preda alla pazzia e il bambino succede una cosa particolare questo è un finale aperto un finale aperto dove finalmente si vede il presidente degli Stati Uniti che va a trovare il suo amico nonché anche ambasciatore quindi è una figura importante lui è diventato un ambasciatore e in quel momento che succede il presidente degli Stati Uniti dice cosa vogliamo fare è pronta la sua auto vuole andare sì do l'ultimo saluto e poi andiamo mentre scende la telecamera in quel momento spunta Damien tenuto dalla moglie del presidente degli Stati Uniti per mano c'ha anche il presidente degli Stati Uniti e si gira verso di noi così finisce il film ora questa è la mia conclusione questo film per tutto il tempo ti vedi un film è fatto bene non è invecchiato male vale la pena c'è anche un remake che casualmente hanno messo l'attrice che ha fatto Rosemary Baby fa il remake di Omen come se fosse un seguito vi rendete conto nel remake c'è la moglie che fa un altro ruolo però fa Mary di Rosemary Baby fa praticamente l'attrice nel seguito di Omen ma c'è un particolare c'è una sottotrama per tutto il film che non è mai dichiarata non c'è mai nulla come se ci fosse un film un Omen opposto concavo questa è la parte convessa quella che vediamo noi ma c'è la trama della regia del film è nascosta perché allora dal momento in cui si sacrifica la tata in onore di Damien del suo dio arriva la tata protettrice lo psicologo dice che deve uccidere lo suo figlio poi c'è padre stiletto che consegna il bambino ci sono tante figure marginali che fanno un cerchio che chiudono un cerchio lui fa carriera e diventa ambasciatore perché vogliono dare il potere a Damien e poi alla fine finisce il film che il bambino viene adottato dal presidente degli Stati Uniti quindi diventa potentissimo il bambino ora la sensazione che ho io è che questo film ci vuol dire ci vuole dire al di là del film le simbologie e quant'altro ci vuole dire che alle volte noi siamo spinti pensando che si sono meriti nostri ma in realtà siamo spinti da certe circostanze cioè per tutto il tempo Gregory Peck noi pensiamo che lui sia un uomo attivo che decida no tutta la sua vita è condizionata da agenti esterni come se lui dovesse essere un comprimario che deve portare avanti Damien a diventare il più potente del mondo ma anche a livello politico perché Damien diventa il figlio del presidente degli Stati Uniti quindi l'anticristo diventa realmente il principe del mondo e quello che mi affascina è che questo film non viene mai dichiarato cioè che la setta sia collegata lo psicologo stiletto la tata non è mai volutamente dichiarata questa cosa è a libera interpretazione come se fossero addirittura hanno fatti quasi 4 o 5 di questi film di Omen io mi sono concentrato su questo perché è quello che ha più simbologia perché da quel momento in poi è tutto dichiarato cioè non c'è tanta di simbologia si sa che ormai lui è il principe del mondo principe delle cose visibili e da quel momento non c'è niente cioè ti vedi il film ma è la conseguenza del primo quindi a me è la cosa che mi ha colpito di questo film mentre Rosemary Baby è tutto circoscritto in una stanza abbiamo già analizzato questo film tutta quella setta nasce tutta in una stanza opposta cioè tutto il film si svolge dove questa setta è molto minimalista cioè non è che stanno cambiando il mondo ok film Omen invece è un crescendo per dimostrare quanto è facile quanto è vicina e cosa ci vuole dire questo film ci vuole dire che le forze oscure sono arrivate perfino a raggiungere il potere ma il potere è anche politico non solo un potere di guerra è un potere dei signori della guerra quindi io la sensazione che ho che questo film voglia dirci è una questione personale voglia dirci che già i giochi erano già fatti da tanto tempo perché Rosemary Baby è tutto circoscritto a concentrarsi a far vedere il punto di vista di Rosemary di una donna che non sa di essere colei che concepirà l'anticristo quindi la storia di Rosemary Baby è concentrata non sulla setta è concentrata sul punto di vista di Rosemary Rosemary e invece Omen noi di Damien non sappiamo nulla non parla non dice nulla non abbiamo il punto di vista dell'anticristo abbiamo il punto di vista di Robert ma c'è un punto di vista nascosto in questo film molto particolare e allora poi niente quindi i pesci formano un sette sì è interessante quattro e sette potrebbe essere sempre i nomi di Dio quindi quello che il presagio in realtà il film è il presagio io lo interpreto il presagio che tutto ecco noi abbiamo assistito agli antipodi ecco il film di Omen io lo trovo molto interessante per il contesto storico e per il periodo perché da quel periodo in poi magari ci vogliono dire che magari l'antichrist già potrebbe avere 45 anni ma è il giorno di adesso quindi comunque volevo dirvi questo la cosa interessante di questo film è che pian piano questo film diventa una questione incredibilmente planetaria perché all'epoca il presidente degli Stati Uniti americano era l'uomo più potente del mondo gli Stati Uniti non avevano assolutamente rivali tranne i russi ma erano visti come l'uomo più potente del mondo e lui diventa figlio ma la cosa strana la domanda è il presidente degli Stati Uniti sapeva tutto ciò oppure è vittima anch'esso è vittima anche il presidente degli Stati Uniti che non sa chi si è messo a casa oppure questa cosa è architettata e c'è di mezzo pure il presidente degli Stati Uniti questa è la cosa che il mio dubbio la mia domanda è questo è questa non lo so cosa vi devo dire amici come sempre vi dico vi aspetto come sempre settimana prossima sono venerdì veniteci Firenze 28 aprile siamo in Izium c'è anche il mio amico Bizzi per prenotare 37708 65571 anche un messaggio whatsapp e poi non perdetevi se siete alle parti di Firenze come questa è già passata non perdetevi anche questo i tarocchi guardate che il significato archetipale dei tarocchi è una cosa veramente affascinante 2930 aprile infoconotazioni sempre lo stesso numero mi raccomando i 2930 aprile tra l'altro è il mio compleanno quindi festeggeremo assieme il mio compleanno faremo insieme il compleanno venerdì ci sarà io farò Inizium lo farò a Firenze al centro di Firenze e poi faremo i tarocchi 2930 quindi farò questo weekend sarò a Firenze se ci siete bene mi fa molto piacere iscrivetevi ve lo consiglio perché i tarocchi è una cosa che mi affascina perché poi ho scoperto che pochi lo fanno come li so fare io forse quasi nessuno perché lo faccio una manovra archetipica spiego che cos'è la divinazione spiego che cos'è il percorso dei tarocchi quanto è vicino alla nostra vita il mistero e gli arcani che sono fantastici non c'entra nulla con le taroccate che siamo abituati a vedere in televisione quelle no oppure per telefono quelle no non c'entra nulla è qualcosa di veramente profondo io veramente posso garantirvi che i tarocchi sono alla base dell'esoterismo quindi chi vuole fare l'esoterismo non può non conoscere queste meravigliose finestre verso l'universo ve lo garantisco approfittatene perché non so se poi il prossimo anno quando sarò li riprenderò ancora farò altro tutto qua non lo so come ottobre un giorno iniziassi a mettere i sottotitoli in inglese nei suoi video lo so un bel po' di lavoro non so che te mi proponi sono molto interessati io ti ringrazio però non ho il tempo materiale per fare questo lavoro io sto facendo tutto da solo gli eventi per fortuna mi aiutano però per quanto riguarda tutto quello che vedete su youtube locandine cose temi calendari sono tutte tematiche io non ho nessuno che mi sta aiutando quindi sono non riuscirei mai a fare questo il genere l'esorcista del papa devo andarla a vedere appena esce magari qualcosa facciamo non è mai stato non è stato non più no no purtroppo lo è stato Matteo uno dei uomini più potenti del mondo è stato perfino come si chiama quello che hanno ammazzato non che è né di l'altro quello del 1800 mi viene stanchezza comunque no c'è stato un periodo in cui gli americani erano i più potenti mi dispiace dirtelo ma purtroppo 30 portaeree nel mondo ce le hanno loro gli altri non ne avevano neanche una la geopolitica purtroppo non è così chi ha investito soldi totalmente tramite le risorse nel mondo sono stati gli americani volente o non volente questo bisogna accettarlo poi se per contrapasso costantemente dobbiamo dire che gli americani non è vero che sono stati più potenti del mondo signori miei allora io vi dico sì e basta però la realtà dei fatti è questa c'è stato un periodo in cui i miliardi li facevano girare loro l'armamentario più potente hanno calcolato addirittura che l'armamentario degli americani per quanto riguarda Bellico l'armamentario Belli è il doppio rispetto a tutto quello del mondo quindi se tutto il mondo dovesse mettersi contro gli americani loro hanno più armamenti quindi signori chi ha più pistole vince poi se mi dovete dire sempre la solita cosa che sento sempre in giro senza avere prove ascoltatevi i i professori di geopolitica anziché andare su youtube non andate sempre su youtube fatemi la cortesia aprite qualche libro ci sono libri universitari non di ora così non dite che sono collusi sono libri di vent'anni fa dove i geopolitici dicevano le cose come stavano che negli anni settanta negli anni ottanta gli americani erano molto potenti punto ora ci sono i rusi i cinesi e tutto il resto comunque non mi va di parlare di geopolitica perché mi annoia a me la geopolitica mi annoia non so come dirvelo è la cosa più noiosa al mondo perché tanto non si cambia più ne parli e più non cambia anzi peggiora ok la geopolitica non si cambia con le parole purtroppo si cambia con i miliardi e se non hai i miliardi non serve parlarne serve solo a fare hype a fare visual a fare monetizzazione questo serve parlare di geopolitica però non serve a nulla sprecatelo voi l'ossigeno io le trovo flautolenze orali per me sono flautolenze orali e ho cose più affascinanti da dire e da fare ok no gli americani non sono i più forti vabbè non sono mai stati i più forti sono stati e 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 il mondo poi che cosa c'è la nigeria la più potente che cosa c'è per sé perché negare la realtà perché a che cavolo serve negare la realtà se tu ti contrappori all'evidenza a cosa cambi nel mondo nulla nulla però l'altra volta pure quello là a bio blu vestito da americano blue jeans tatuaggio americano cappelletto no qui gli americani non stanno comandando lui vestito da americano mi dice che non l'hanno dominato siamo totalmente invasi alla cultura americana usiamo slang e ci comportiamo come gli americani ci vestiamo come gli americani cioè io non lo capisco cioè solo un idiota non si accorgerebbe che noi siamo invasi da l'invasione americana e come la combatti negandola non è vero non è vero non si fa l'accetti diventi superiore cambi la tua cultura cresci e ti imponi con la tua il telletto allora sì ma non lo neghi con non è vero non è vero no no non è vero è come dire che il sushi in Italia l'hanno portato i giapponesi sì sì non l'hanno portato i cinesi il sushi l'hanno portato i giapponesi non è vero i giapponesi l'hanno portato oh dio santo dio santo un giorno dovesse prendere veramente un'astronave e andare dall'alto e vedere chi è che comanda il mondo solo così lo puoi fare siamo totalmente invasi cioè perfino chi si veste americano mi dice che non è americano il modo di fare film il modo di fare pubblicità il modo di fare tutto il modo di vivere i talk show sono americani e dentro un talk show mi si dice a me che non è vero che gli americani comandano cioè noi siamo in un talk show io ero in un talk show di mentalità americana perché volevano sangue litigare no con uno vestito americano che mi dice che non è vero che l'America li sta comandando ditemi voi se non è un'idiozia pensare il contrario e toglierò i commenti da questa diretta perché mi romperò assolutamente a sentire quelli che dicono il contrario ve lo dico sono stanco cioè ah non sono nervoso è perché mi si nega la realtà mi si nega la realtà consumare neuroni inutilmente così non è facile accettiamolo l'unico modo per sconfiggere un nemico è accettare quando è più forte di te o quando ti ha fregato prima se tu continui ancora a negare non vinci accettalo per tanti anni ci hanno manipolato per tanti anni ci hanno comandato dobbiamo accettarlo accettiamo questa cosa e quando tu accetti la tua sconfitta da quel momento puoi crescere ma se noi continuiamo costantemente a negare la realtà ascoltando ogni peracottaro che va su youtube a dire il contrario senza avere prove diventiamo mangime per cica questo diventiamo perché non si può negare noi siamo una colonia ma la storia ce lo dice mica lo sto dicendo io leggete la storia oggi domani festeggiamo la festa della libertà giusto festa della liberazione liberazione da chi da chi ci hanno liberato dai nostri alleati cioè noi eravamo alleati con i nazisti ed eravamo fascisti e sono arrivati gli americani a liberarci da noi stessi poi quando sono andati via gli americani noi ci siamo messi con i russi cioè noi siamo non di solito quando un popolo viene quando gli americani conquistano no conquistano degli alleati la festa della conquista no della liberazione perché si chiama liberazione ma liberazione da chi se non se non capiamo la storia se non capiamo che già la manipolazione sta già là che ci fanno festeggiare qualcosa dove gli americani vengono a liberarci noi stiamo festeggiando una festa americana perché ci hanno liberato ma no di solito si dice conquista quando tu prendi uno stato che è alleato dai tedeschi come lo avevamo noi noi eravamo alleati dai tedeschi e gli americani ci hanno conquistato non ci hanno liberato liberato da chi se noi fossimo stati giusto fossimo stati con la forza presi con la cosa noi abbiamo accettato di essere con Hitler l'abbiamo accettato Mussolini aveva il terrore di Hitler ha detto accettiamo dopo che abbiamo fatto i fascisti abbiamo fatto la guerra ai francesi a tutto arrivano gli americani e ci liberano liberano da chi ah dai fascisti i fascisti eravamo fascisti noi eravamo come in Spagna c'erano i franchisti ed erano erano franchisti noi eravamo fascisti ok quindi da chi ci hanno liberato neanche neanche sappiamo quello che abbiamo in bocca quello che ci esce dalla bocca neanche ne siamo padroni e di conseguenza poi apriamo la bocca è come un meme ripetizione tutututututum capito le cose che pensano gli altri ce le mettono qua e noi le ripetiamo senza neanche analizzarle tutto qua arrivederci poi chi erano i troll niente non ci sono più domande va bene non tutti gli italiani erano fascisti bene questo è vero ma nella stragrande maggioranza noi eravamo come dominio e governo eravamo fascisti se arriva un governo di destra noi siamo un governo di destra siamo uno stato di destra perché ha vinto quella maggioranza lì quindi non è che tutti in Italia sono di destra c'è gente di destra c'è gente di sinistra all'epoca c'erano gente che non era fascista e gente che era fascista ma l'Italia era dichiarata fascista storicamente la chiamano periodo fascista non la chiamano periodo di dominazione fascista no noi storicamente abbiamo scelto Mussolini convinti di diventare i migliori al mondo punto è stato un errore votarlo accettiamo questo se non accettiamo che non abbiamo scelto Mussolini sì sul cane nero sì va bene no indicatemi chi è questa persona che io non so chi è cioè dall'esterno noi venivamo visti come dei fascisti va bene io chiuderei va bene grazie per essere stati così tanti va bene arrivederci alla prossima grazie a tutti